L'incontro in aula Paolo VI con i bambini assistiti dal dispensario pediatrico Santa Marta. E' così che Papa Francesco ha iniziato la giornata del 17 dicembre nel suo 87esimo compleanno segnato da numerosi messaggi di auguri arrivati in Vaticano da tutto il mondo. Un momento di festa all'insegna della semplicità e della gioia, culminato con un breve discorso a braccio. Buongiorno a tutti voi e grazie tante per vedere voi, tante bambine e bambini qui tutti. Grazie tante. Noi dobbiamo preparare per una grande festa che sarà la prossima settimana, il Natale. La festa nella quale noi pensiamo e ricordiamo quando Gesù è venuto, è venuto per stare con noi. Pensiamo, prepariamo il cuore al Natale per ricevere Gesù. Ognuno pensi cosa chiederò a Gesù, cosa chiederò a Gesù in questo Natale. Adesso ognuno di voi pensi, cosa chiederò a Gesù in silenzio. Gli occhi chiusi e pensi, cosa chiederò a Gesù. Avete pensato già? Va bene. Chiedetela dopo. E vi auguro un buon Natale, un buon Natale a tutti voi, sempre col sorriso. E che il Signore vi dia tutto quello, tutto quello che voi volete. Grazie. Balli, canti ed esibizioni circensi hanno scandito l'incontro prima dell'arrivo della torta. Papa Francesco, circondato da alcuni bambini, ha spento le candeline e non si è sottratto ad abbracci e selfie per un ricordo indimenticabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.